Musica Poco più di 300 abitanti in Val Soana e Ronco Canavese, un paese che fa parte almeno parzialmente del territorio del Parco del Gran Paradiso, una comunità legata alle proprie tradizioni linguistiche e culturali, lo si percepisce subito nel centro storico di Ronco, ma ce lo siamo fatto raccontare naturalmente dal sindaco. Lorenzo Giacomino, primo cittadino di Ronco Canavese, siamo nel penultimo comune della Val Soana, siamo alle porte del Parco del Gran Paradiso, qual è la carta d'identità di Ronco Canavese? La carta d'identità di Ronco Canavese è quella di una comunità, di una piccola comunità di montagna che ogni giorno è alle prese con la vita di montagna, che per chi vive qua è la migliore vita possibile, ma che ha dentro di sé delle fatiche quotidiane e delle disparità, soprattutto in termini di servizi rispetto a chi vive in pianura. Che cosa manca di più a livello di servizi a Ronco? Circa due mesi fa insieme alla Giunta abbiamo deciso di dotare il nostro ambulatorio medico di un medico di cartone, in segno di protesta per quanto riguarda la sanità di montagna, proprio perché da due medici di famiglia siamo passati a uno solo che nei prossimi anni andrà in pensione. Questo insieme alla presenza della guardia medica nel fondo valle di Ponte determinerà un impoverimento dei servizi sanitari che sono essenziali specialmente per la popolazione più anziana. In questi giorni invece stiamo affrontando un'altra guerra e lo stiamo facendo con altrettanta determinazione che quella sul segnale tv. Sinceramente non capisco come mai un cittadino che decide di vivere a mille metri di quota si debba per forza dotare di una parabola satellitare, a differenza di un cittadino di pianura che invece può godere, ovviamente pagando lo stesso canone che pagano tutti i cittadini, di tutta l'offerta della televisione pubblica che qua invece non è garantita. Uno dei due versanti della Val Soana qui a Ronco fa parte del territorio del Parco del Gran Paradiso. È più un limite o è più una risorsa in più dal punto di vista turistico, un richiamo? Per noi il Parco Nazionale Gran Paradiso è sicuramente motivo di orgoglio e vuole sempre essere più una risorsa per la popolazione locale. La mission che si è data al Parco è coniugare lo sviluppo con la conservazione. La comunità locale che abita il Parco Nazionale Gran Paradiso è la risorsa più importante per il Parco stesso e quindi lavorare insieme per obiettivi di sviluppo, perché senza lo sviluppo la comunità viene meno e la vita in montagna è ancora più difficile. Proprio sullo sviluppo noi vogliamo lavorare sia in termini turistici che ad esempio ambientali ed energetici. Lei è un giovane sindaco, ci sono altri giovani che hanno deciso di rimanere in valle per costruirsi un futuro, una famiglia, un lavoro? Sì, ci sono altri ragazzi che hanno fatto questa decisione, ma non solo, ci sono altri ragazzi che hanno fatto la decisione di tornare a vivere nel luogo da cui le loro famiglie erano emigrate. Questa è la mia storia, questa è la storia di altri ragazzi. Ovviamente le nostre storie non bastano. Questi numeri sui ritorni alla vita in valle e in montagna non permettono ancora a fine anno di avere un numero positivo. Purtroppo lo spopolamento esiste ancora. Io tre mesi fa diventando sindaco ho detto una cosa, che sarei voluto diventare il sindaco che combatte contro lo spopolamento. L'attaccamento alle tradizioni e alla cultura locale. Quanto è sentito qui e poi in cosa si esprime? La popolazione di Ronco Canavese della Valle Soana è attaccatissima alle proprie tradizioni, alla propria parlata. Siamo minoranza linguistica franco-provenzale, ma ciò che ci contraddistingue da molte altre realtà è il fatto che qui questa lingua, che non è un dialetto, io ci tengo molto a questa sottolineatura, viene ancora parlata quotidianamente degli abitanti, non solo da quelli più anziani, ma anche da quelli più giovani. Parlare una lingua minoritaria, una delle lingue madri tutelate anche da città metropolitana non vuol dire rifugiarsi nel passato, ma vuol dire sapersi distinguere nel futuro che ora stiamo progettando e che costruiremo. Chiudiamo allora con un appello, con un invito a venire a visitare Ronco Canavese in lingua franco-provenzale. Venite tutti i Ronco in Val Soana, Ronco è un paese franco-provenzale, ho delle montagne e delle borgarie bellissime. Se venite qui, potete sentire le parole che parla la gente che viste qui, Tolanz, volete parlare di Gnaggio, volete parlare di nostra moda. Grazie a tutti i Ronco.